La congiuntura che stiamo vivendo però ci porta a riflettere sul bisogno assoluto di avere una condizione di sovranità energetica perché la dipendenza dall'estero ci rende fortemente vulnerabili. La dipendenza dall'estero è un freno allo sviluppo, forse mi ripeto ma è come andare avanti col freno a mano tirato che non permette pur schiacciando l'acceleratore di raggiungere la velocità che si vorrebbe.